Cinti Il prossimo incontro da Tamiuno Giorgi Fiori Si preparino Marcaria, Salvatore, Paparello, Marco Vice Savaresi Sultatami Arcadia, Paparello Vince Damiano Sultatami, Casale, Modeo Per il prossimo incontro si preparino Fasano Giunluga Contro Emanuele Arcadia, Salvatore A.S.T.T.T.A.N.A.C.E. Vince Cala Fatami 5, Portazzo, Cinti Si preparino Zanchi, Francesco, Di Meglio, Riccardo Si preparino per il prossimo incontro Tatami 5, categoria 50 kg Angelone Angeloni Dominici Vice Infante Sultatami Pari, Simone, Crescensi e Alessio Si preparino Paoletti, Simone e Rossi Andrea A.S.T.T.A.C.E. O.S.T.A.C.E. A.S.T.A.C.E T.A.C.E Grazie a tutti. Vince Pari Simone, su Tatami Paoletti Simone, Rossi Andrea. Vince Arcadia, su Tatami Zanni di Meglio. Grazie a tutti. Vince Cortazzo. Vince Bravini.